Benvenuti nel mondo degli orologi Daniel Roth. Daniel Roth è un marchio di orologi di alta gamma che prende il nome dal suo fondatore, nato a Nizza nel 1945. Daniel ha avuto una passione per gli orologi sin da bambino, grazie a suo nonno e bisnonno che erano orologiai di Nochatel, una città svizzera famosa per la sua tradizione orologera. La passione per gli orologi ha portato Daniel a diventare un orologiaio a sua volta e a fondare il suo marchio di orologi nel 1989. L'obiettivo di Daniel era quello di creare orologi di alta gamma che fossero allo stesso tempo eleganti, raffinati e tecnologicamente avanzati. L'azienda ha sede a Ginevra, nel cuore della Svizzera orologera. Daniel Roth ha creato molti orologi iconici nel corso degli anni, tra cui il famoso Cronograph Tourbillon, che ha ricevuto numerosi premi per il suo design innovativo e la sua precisione. L'orologio è dotato di un tourbillon volante, un meccanismo che compensa gli effetti della gravità sul movimento dell'orologio, garantendo una precisione senza pari. Inoltre la collezione di orologi Daniel Roth comprende diversi modelli, tra cui il Grande Sonnerie, l'Endurer Crono Sprint, il Papillon Cronograph e molti altri. Ogni modello è dotato di caratteristiche uniche e di un design esclusivo. In sintesi, il marchio Daniel Roth rappresenta il meglio dell'orologeria svizzera. Gli orologi sono realizzati con materiali di alta qualità, dotati di movimenti altamente sofisticati e di un design esclusivo. Se sei un appassionato di orologi, non puoi perderti la collezione di orologi Daniel Roth. Gli orologi Daniel Roth.